Modesta, caro Fabrizio, con un A3 che è stato regalato da... No, dicevamo, sì, dipende come va la gara, però allora pensiamo al prima, no? Il calcio è speciale in questo senso, cioè non il calcio, lo sport dove girano molti soldi, la scusa è non disturbare, eccetera, eccetera, no? In realtà il discorso è, a, cerchiamo di avere soldi collaterali agli eventi, quindi anche alle uscite giornalistiche, diciamo, e B, soprattutto, le centelliniamo, Skype, no Skype, YouTube, per lo sport ai massimi livelli è un buttarsi via. Se ci dobbiamo buttare via... Vanni ti sento molto a Skype. Eh, colpa del connessione scadente, leggo. Niente, dicevo, poi la lascio Fabrizio. Prima di una gara importante, da quanto chiede di concentrarsi, di lasciar perdere le distrazioni, giornalistiche o meno? Allora, partiamo dal presupposto che noi non abbiamo così tanti giornalisti che ci stanno appresso prima di una gara importante. Prendiamo Ancona, no? Ammesso che io venga e credo di non venire perché dovresti... Perci arrivare i giornalisti è un'eccezione. Prendiamo Ancona, no? Lei è in gara ai campionati italiani? Mi senti? Eh... Non ti sento. Eh... C'è la questione che... No, 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 sa qual è, adesso cambio, sa qual è il problema? Che passano accanto le macchine, qua, la mia sinistra, e quindi mentre passano le macchine va via il segnale, siccome sono in una strada, adesso vado, salgo appena, così, vede che qua adesso c'è uno spiraglio, salgo appena, mi sposto appena, così, con meno macchine forse, ma è incredibile la tecnologia, eh? Prendiamo i campionati italiani di Ancona, dicevo Fabrizio, ammesso che io mi profili, lei c'è? Ci siete tutti? Niente da fare. Niente da fare Fabrizio, non sono fortunato. Facciamo così. Eh... Vabbè, penso che non mi sento e... Fermiamo. Ciao.